Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Tonello, responsabile del punto venditaggio e casa di Finale Ligure, specializzata nella compravendita di mobili residenziali. Oggi ci troviamo a Tovo San Giacomo, nello specifico nella frazione di Bardino Vecchio, per presentarvi un grande appartamento di 116 metri quadri con un ovvio terrazzo. Il terrazzo è adiacente alla zona giorno, che ora vi mostro. Qui troviamo l'ampio ingresso, che non solo ci porta al soggiorno che vi ho appena mostrato, ma ci porta anche ai due ripostigli, a un pratico bagno finestrato e a una cucina abitabile molto spaziosa. Entriamo nella camera da letto matrimoniale. Questa è l'altra camera da letto. Vi abbiamo appena mostrato una meravigliosa opportunità a Tovo San Giacomo. Se volete ricevere qualche informazione in più, chiamateci al numero che trovate qui sotto. Devi vendere anche tu casa fino ai Ligure o nel suo entroterra? Allora clicca sul link che trovi in sovraimpressione.